Sembra non avere fine la vicenda della darsena borghese di Fano, uno dei luoghi più caratteristici della nostra città. Ma questa volta qualcosa pare andare dal verso giusto. Infatti dalla giornata di oggi la nuova ditta appaltatrice, dopo il passaggio dei documenti sulla prosecuzione dei lavori da parte della precedente, è al lavoro per concludere in tempi celeri la riqualificazione di una delle location più amate dai fanesi. Attualmente la parte della darsena è conclusa, manca solo l'installazione di due panchine in legno e alcune rifiniture. Quello che resta da fare è la parte verso il porto, ovvero il camminamento in futuro, chiamata passeggiata romantica. L'assessore Brunori insieme agli operai e ai responsabili della ditta hanno eseguito un sopralluogo per dare finalmente inizio e una fine al cantiere. Sono lieta di annunciare la ripartenza dei lavori qui alla darsena, ci siamo presi un impegno e l'impegno verrà rispettato, con un po' di ritardo, un ritardo che non è dovuto agli amministratori nella nostra lentezza, ma a tutti quegli atti burocratici che sono naturalmente dovuti dopo il decesso che è avvenuto da parte del titolare della vecchia impresa. Questo pomeriggio subito cominceremo a mettere a dimora le panchine, le sedute, quindi della parte della passeggiata. Ieri sono state sfalciate le scarpate e nei prossimi giorni verranno rinverdite con tanta vegetazione colorata. Successivamente verrà realizzata la nuova pavimentazione. Il tutto si dovrebbe concludere per metà luglio con una data finalmente definitiva per restituire alla città questo posto meraviglioso, che sarà un posto con una suggestione romantica ma anche con tante sorprese. Per cui la prossima volta che ci vedremo in questo spazio sarà proprio il giorno dell'inaugurazione. Una delle caratteristiche di questo luogo, che non solo verrà reso fruibile e naturalmente abbellito, ma sarà anche un luogo dove verranno proiettate delle immagini della nostra cara città e saranno sempre visibili nella fase notturna. Abbiamo messo a disposizione due videoproiettori che saranno funzionali poi a tante altre attività culturali della città strada facendo.